Oggi abbiamo in Consiglio regionale approvato una risoluzione da presentare al Governo e al Parlamento per aiutare con la situazione del sisma bonus e dell'eco bonus, quindi del famoso 110. Prima abbiamo chiesto al Governo di poter far sì che tutti i crediti maturati fino ad oggi e con le opere che sono state approvate e che si matureranno nei prossimi periodi possono essere scontati e quindi dare la possibilità alle banque o altre forme di collaborazione con le grosse aziende o con altre forme di far sì che questi crediti vengano scontati. Poi abbiamo dato la possibilità di scontare i crediti da 4 a 6 anni. Abbiamo chiesto inoltre che tutti gli enti parastatali o gli enti che affiancano le attività delle regioni di poter scontare i crediti maturati dai cittadini.